Sul caso banchero sono stati chiesti degli approfondimenti, che cosa è emerso a questo punto? Permangono ancora forti elementi di dubbio, proprio dubbi sollevati dallo stesso tribunale di Milano della sezione appunto del lavoro, da una sentenza quindi passata in giudicato, non mai appellata dall'attuale direttrice sanitaria di Asla 5, quindi una sentenza definitiva, che solleva appunto dubbi sui requisiti della stessa dottoressa quando doveva essere inserita negli elenchi degli idonei a direttore sanitario in Regione Lombardia. Questi dubbi ovviamente si traslano e si riportano anche in Regione Liguria e noi ci attendiamo della documentazione, noi non vogliamo più risposte anche articolate come quella che abbiamo ricevuto, vogliamo la documentazione che attesti che qualcosa da quella sentenza è cambiato, qualcosa quindi da quel giorno è cambiato e che esistano ad oggi i requisiti perché la dottoressa banchero ricopra appunto il ruolo che ha nella sanità e questo lo facciamo non per una questione politica, lo facciamo a garanzia dei nostri cittadini, dei nostri concittadini, della Regione Liguria, dell'ASL 5, quindi della nostra azienda sanitaria locale e lo facciamo anche nell'interesse della stessa professionista perché è giusto che ricopra un ruolo di tale responsabilità senza alcun dubbio e senza ombre di alcun genere. A questo punto che cosa succede, quali azioni intendete mettere in campo? Abbiamo cercato di capire com'è la situazione pur muovendosi in un campo difficile che è quello dell'interpretazione giuridica, anche di una sentenza. Noi agiremo in campo politico, in questo caso io e Francesco abbiamo la perfetta concordanza, io mi auguro che non sarà necessario che qualche d'uno sollevi la questione giuridicamente, noi faremo un'interrogazione all'assessore, alla luce degli atti, alla luce della presa in considerazione della risposta che ci è stata detta, data dal Dipartimento Sanità e naturalmente, come dire, se questo non bastasse, presenteremo oltre un'interrogazione, presenteremo anche un'ora del giorno, una mozione che in realtà, come dire, faccia decidere la Giunta. E sarei il primo contento nel vero senso se mi dicessero che in realtà sono emersi nuovi elementi e quindi, come dire, per noi non c'è un elemento strumentale, quindi a noi ci interessa soltanto un elemento di trasparenza e di certezza dell'azione amministrativa.